Le associazioni di categoria degli esercenti criticano aspramente il nuovo piano di risanamento acustico del centro cittadino, invitando l'amministrazione comunale di Pescara a mediare con i residenti per arrivare ad un allungamento dell'orario degli eventi organizzati per il prossimo mese nel quadrilatero di Piazza Muzzi. Per noi è anacronistico discutere di questi argomenti dopo la pandemia e in un contesto economico di crisi e di incertezza per il futuro. È nata una polemica, ho letto un articolo dei residenti nella zona centrale, credo che con questo articolo loro hanno gettato la maschera. Noi come associazione insieme a Pescara Viva abbiamo fatto un programma di micro eventi, ma con un impatto acustico irrilevante, proprio per andare incontro alle esigenze di tutti, è calibrata per la zona e da lì è successo il finimondo. Io non ho più parole perché noi vogliamo mediare, vogliamo andare incontro, ma siamo in una città di mare, se è il 21 luglio, noi abbiamo fatto questo programma luglio e agosto, fine settimana per accendere la città. Vogliamo una città turistica e si discute ancora di questi argomenti. Noi dovremmo fare un monumento all'attività di quel centro. Io, i residenti, che tra l'altro sono pochi e non rappresentativi della zona, vorrei ricordare che senza le luci di quelle attività, lì, lì, arriverebbe probabilmente il degrado che è dietro l'angolo in Piazza Santa Caterina. Poi, sinceramente, non riusciamo a capire come è normale che in una città di mare l'estate si accende in tutte le zone, riviera e altre zone. Come mai questa attenzione in quella zona centrale? Noi chiediamo al Comune, una volta per tutta l'amministrazione, spero che quest'azione dei residenti abbia un po' svelato quali sono i loro obiettivi. A mio avviso, per loro dovrebbero chiudere anche le gelaterie di quella zona. E una volta per tutto si faccia una scelta. Deve prevalere l'economia. Poi, non dimentichiamoci che, come loro hanno diritto, perché abitano lì, hanno diritto anche alle attività che hanno delle licenze. Quindi siamo a pari diritti. Noi vogliamo, tra virgolette, trovare un punto in incontro. Se di fronte c'è chi ha un atteggiamento talebano, l'amministrazione deve aprire gli occhi.